METTO PLAY? Eh già play! Ah, e quindi? Inizio io o tu? Tu, a me non mi va, gioco con le phone. Ah, eccolo qui. Va bene, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo e primo video in cui apriremo il nostro canale. Il nostro canale, come avete già potuto vedere qua sopra Lasciatelo perdere subito Si chiama iAssignaSoto Non mi chiedete che vuol dire perché proprio non lo so. E come avreste invece potuto leggere qua sotto? Faremo gameplay di videogiochi come Slender, Fallout Silent Hill Silent Please Va bene ragazzi, questo è il mio amico. Allora, noi ci chiamiamo lui Nicola e io Stefano. O se... su Youtube... Su Youtube ci chiameremo allora Io Bossman e lui Galax Questi nomi fanno schifo ma non commentate per favore perché non sappiamo che mentarci. Ok, direi di concludere... Che cosa fai? Io direi qui... scusate le risate ma proprio si deve ridere per forza E allora... Concludo qua il nostro primo video e spero che vi piaccia questo nuovo canale Iscrivetevi! Il mio po' è cresciuto! O se è spinto il fu... Ah! Un po' è cresciuto! 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 Un po' è cresciuto!